no e c'è gente che salta con quella discesa è l'unica e con questa non è proprio con la mia sì impenna impenna minchia impenna impenna vai perché sembra di cadere a quinto piano fallo con la mia bici in penna e accelera accelera eh sì per forza spero che ho girato al massimo mi si è disarticolato mi oh fallo con la mia fallo con la mia senti come tiene la mia fallo con la mia che si vede anche il mio video c'è la mia bici che non si vede mai cazzo la mia è la più antica non distruggermela che vale 2000 euro non ti prometto nulla non cadere che ti ammazzo non ti prometto nulla che è l'unica che ho passato il cavalletto ma io ho il telaio su quindi non deve non va problemi che la mia è proprio fatta apposta non me e ma che palle aspetta che lo disattivo un attimo vai 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 su ho attivato sembra brutto perché vai accelera accelera c'ho la marcia leggera tanto brava le molle quindi non dovresti ce l'ha anche dietro e va che tiene di brutto tiene di brutto eh il manubrio è originale lascia come tutta la bicicletta lascialo così il manubrio è comodo perché è più corto sarà che questa tiene eh minchia tiene tiene la mia eh minchia ma vaffanculo minchia questa qui è bellissima perché è comodì minchia rimbalza dietro che è assù dietro no rimbalza dietro la molla sediti che cazzo stai facendo ma che bella